Francesco Iurlaro comincia allora questa avventura passato da Marghera all'Umana Reier al fianco di Andrea Liberalotto che già conosci e avete già lavorato questi primi giorni di allenamento che lavoro avete improntato che ambiente hai trovato? Sì sono molto contento di essere qui stiamo già lavorando bene e le ragazze si stanno impegnando direi molto e abbiamo messo i primi concetti iniziali dell'anno e stiamo lavorando di staff quindi diciamo che siamo già molto affiatati per i primi obiettivi. Lavoro anche per inserire le nuove arrivate mi sembra che sia già un gruppo che si è consolidato attorno ai nuovi innesti? Sì sono arrivate con grande entusiasmo e quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per fare bene ecco siamo solo all'inizio però direi un buon inizio.